Ah, aspetta, forse so dove siamo. Allora, so che forse questo è un po'... è un filo barare qui. Però, se ho capito dove siamo quella pietra è giusto che l'abbiamo lasciata indietro. Allora, c'è un glitch stupidissimo, che è stato scoperto per puro caso, che utilizza quella pietruzza lì. Dobbiamo avere Felix con ritirata e dobbiamo avere meno pipì possibili, dobbiamo consumarli del tutto. Voglio farla sta cosa perché vorrei che mi rimanesse all'interno della serie questa stronzata. Allora, noi da qui adesso dobbiamo uscire. Dobbiamo uscire da qui e far consumare il più possibile pipì a Felix. Arriviamo finalmente al centro. E con questo siamo arrivati all'uscita. Perfetto. Ho un pipì. Meno di così non riesco a scendere al momento. Ok, rientriamo. Vediamo se riesco a seguirlo passo per passo. Lui ritorna qua dentro. Usa, ritirata. Non ha abbastanza pipì. Ritorna su e riappare qua. Perfetto. Già ci siamo forse allora. Dai che forse riusciamo a farlo. Aspetta. Forse riusciamo a farlo. Aspetta, 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 aspetta. Ti prego, dimmi che riesco. Già non voglio rifare tutta sta roba, per carità. Però, se riusciamo... Abbiamo sette pipì. Non va bene. Dobbiamo consumarli. Ok. Ritirata, sì. Ha funzionato! La lama solare! La lama solare! Ce l'abbiamo! Abbiamo la spada più forte. Una delle spade più forti del gioco. Già inizio del gioco! 337 di attacco! Oh, Gesù! Abbiamo una delle spade più forti del gioco. Già inizio gioco! Meraviglioso! Ora! 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 Ne vogliamo altre? Ritiriamoci per davvero questo giro. Uscendo dalla parte giusta, che è esattamente questa porta. Io, un altro salvataggio, lo faccio. Ok. Si inizia. Ho farmato le mie 5 spade. Una ce la teniamo noi. Una la teniamo nell'inventario. Le altre 3 le vendiamo. Se hai più multipli di uno stesso oggetto unico, in teoria puoi riacquistarli tutti quanti. Eventualmente, la pietra rimane qui. Anzi, vediamo quanto facciamo da solo. Ok. C'è già andato di culo che ha fatto il mega attacco. Sunemu. Gesù. Dovremmo fare all'incirca sui 500 di attacco. Non ci ho mancato di molto. Abbiamo rotto il gioco. Sì. Ma anche questa è questa serie. Dobbiamo fare le cose in questo modo. Io vi insegno questi trucchi e voi li riutilizzate. Bravi gente. Spacchiamo tutti i boss da qui fino ai prossimi 5 livelli. Oh ah oh 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 oh. Grazie a tutti.